Gassi in arrivo! Visto! Delizioni! Compagno finito nel gulag! Chi sopravvive lì torna in prima linea! attenzione il vostro compagno è stato sconfitto sta tornando è tutto nelle tue mani vinci ostile in discesa nell'area occhio in alto stavolta abbiamo perso ci riparemo alla prossima nemico di fronte attenzione il vostro compagno di fronte attenzione il vostro compagno di fronte Grazie a tutti.